Nascondeva 300 kg di droga in un appartamento di opera nel milanese. Un ragazzo di 24 anni incensurato è stato arrestato dalla polizia per il possesso illegale di hashish e marijuana. La droga era divisa in grosse buste e panette all'interno di scatoloni di cartone distribuiti nell'appartamento affittato circa 20 giorni fa. Il giovane lavora come dipendente di un negozio di scarpe in zona via Torino. Secondo gli investigatori del commissariato centro era utilizzato per custodire la droga proprio in virtù del suo profilo insospettabile. L'ipotesi è che sia stato reclutato in una sala slot che frequentava spesso e dove ha perso molti soldi negli ultimi tempi. Il 24enne è stato individuato dagli agenti del commissariato centro dopo aver ricevuto un'assegnalazione dai colleghi della questura di Chieti impegnati in un'indagine antidroga che coinvolgeva altri soggetti di livello più alto. Dalle conversazioni è emerso il nome del giovane, ma neppure a Chieti immaginavano che potesse costudire una tale quantità di droga, 220 kg di marijuana e 80 di hashish. Dopo tre giorni di pedinamenti, venerdì scorso, gli agenti hanno fermato il giovane a bordo della sua auto e gli hanno fatto capire di essere a conoscenza del suo compito. Quando gli hanno detto di avrebbero perquisito l'appartamento a opera, ha raccontato il dirigente Ivo Morelli, diverso da quello in cui vive e da quello occupato dalla compagna con la bambina piccola, è letteralmente sbiancato.